Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto ponte che introduce le restrizioni valide dal 7 al 15 gennaio in attesa di un nuovo DPCM a metà mese. Scuole superiori riaperte solo dall'11 gennaio, weekend tra il 9 e il 10 in zona arancione per tutta Italia, mentre negli altri giorni vigerà una zona gialla rafforzata, ovvero con lo stop agli spostamenti fra le regioni. Queste le misure in vigore per cercare di contenere il nuovo rialzo dei contagi e di evitare così una terza ondata covid. Il Consiglio dei Ministri, terminato oltre la mezzanotte, ha dato il via libera ad una sorta di transizione verso il ritorno alla divisione in fasce a partire da lunedì prossimo. Dopo i due giorni di zona rossa, oggi e domani, dunque, si entrerà in zona gialla il 7 e l'8 gennaio con libertà di movimento all'interno della regione e riapertura di bar e ristoranti che però dovranno richiudere e tornare all'asporto già dopo 48 ore. Il fine settimana, infatti, si applicano le misure arancioni, quindi locali chiusi e negozi aperti, libertà di movimento all'interno del proprio comune, entro gli orari del coprifuoco fra le 5 e le 22 e autocertificazione per spostarsi all'interno della regione. Da lunedì 11, come detto, ripartirà la zona gialla, fatte salve le decisioni della cabina di regia l'8 gennaio, che potrebbe far cambiare colore ad alcune regioni, anche in base all'inasprimento delle soglie RT per le fasce. Il decreto, da questo punto di vista, introduce una serie di novità per il meccanismo di divisione. Un valore superiore ad 1 farà scattare la zona arancione, un RT superiore a 1,25 la zona rossa. Il Presidente Marsiglio, nella conferenza proprio delle regioni, ha portato avanti questo programma, ha portato avanti questa istanza, perché noi eravamo automaticamente già in zona gialla. Quindi essere penalizzato certo non ci fa piacere. Abbiamo fatto rispettare, ringrazio tutti i nostri cittadini che hanno collaborato nel rispettare queste norme e quindi oggi dovremmo essere liberi di rientrare in questa zona gialla. Aspettiamo questi DPCM da parte del Ministero per verificare se ci saranno misure restrittive ulteriori. Grazie.